Mi sembra un gioco brutto questo Mi sono incassato il cavo Ecco ho trovato Oddio AAAAAA Gioco brutto Faccio La matematica Com'è gli audio? Va bene AAAAAA 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 Aiuto Mi morto Algo ok AAAAAA 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 Niente Mi sono incastato Vai Mi ha spazzita la gotta No AAAAAA 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 Non sterza più ma cambiamo il gioco adesso faccio in letto in letto non faccio in letto ah ce l'avevo la macchina non esco a salire il piano a non c'è tutto questa sensazione Sì, traccia. L'ultimo scrivello. L'ultimo, bello, carino questo gioco. Sì, è partita in turbo. Dopo turbo. Ah, 127. Questa macchina. Oh, basta. Cariuccio. Ah, vediamo se le macchine se mi fa cambiare. Ah, è qua. Ah, c'è questa. Ah, ci sono più macchine. Va bene. Bello questo. È divertente. Uh. Ah, no. Quella è la macchina in prima. Ora, 127. No. Sì, è la macchina in prima.